ecco il flugone è pronto usciremo con questo buonasera buonasera ciao ciao io sono luca il capo squadra del servizio della domenica dei city angels ti do il benvenuto qui cosa c'è allora qua abbiamo focacce e pane che abbiamo utilizzato per fare i sacchetti che utilizzeremo per la serata di oggi chiederemo ai nostri utenti quando abbiamo poi tutta la parte di vestiario intimo la parte anche di igiene per quanto riguarda le persone che sono stata che hanno difficoltà a trovarle giustamente che ogni settimana alla propria squadra che gestisce la giornata e ci stiamo preparando per fare la serata la prima fermata è arrivata qui ci fermiamo qua sinistra cosa ti serve? i bobs ok ecco il vieto è bello vedi che bravo i bobs ok Grazie a tutti. Grazie a tutti.